Al quartiere Santa Venera saranno svolti lavori di reggimentazione, sistemazione idraulica e consolidamento. L'importo stimato è di 174.204,47 centesimi di euro. Dalla verifica delle offerte è risultata la migliore quella presentata dall'RTP che ha offerto un ribasso del 33,721% sull'importo a base d'asta. Importo complessivo onorario pari a 137.339,91 centesimi di euro. Un contributo previsto dal Ministero dell'Interno che si è poi operato su confronto tra più professionisti con richiesta di presentazione dell'offerta in relazione alle attività da effettuare. È uno dei più antichi rioni della città che prima faceva parte del quartiere Santa Flavia. Caratterizzato e interessato già durante gli anni precedenti da dissesti che si sono manifestati anche con la comparsa di lesioni nei fabbricati e nelle strade. Il problema ha da sempre riguardato le scadenti caratteristiche dei terreni a cui si è aggiunta anche una rete idrica e fognaria problematica viste anche le condizioni di stabilità dell'area. Tanto che già anni fa alcune abitazioni a causa di assestamenti subirono danni in modo rilevante per effetto della particolare situazione geologica dell'area caratterizzata dalla presenza di faglie e di terreni superficiali e di scadenti caratteristiche geotecniche. Per questo gli interventi avranno una valenza determinante sulla riqualificazione del rione.